buonasera a tutti grazie per essere presenti questa sera per quest'evento la metà di niente quale futuro per le pari opportunità organizzato dal comitato pari opportunità dell'ordine degli psicologi della lombardia questo evento si colloca all'interno di un palintesto come molti di voi sapranno molto più ampio che la psicologia per i diritti umani una settimana tematica per discutere di futuro il nostro ordine professionale ha voluto fortemente lavorare sul dibattito che c'è intorno ai diritti umani e la psicologia proprio perché il benessere della persona passa attraverso un benessere bio psico e sociale e la nostra professione la professione naturalmente evocata alla tutela alla promozione dei diritti umani tutti e anche del diritto alla salute psicologica della persona voi mi conoscete già perché mi avete mi avete visto questa settimana ma mi conoscete anche a livello ordinistico sono gabriella scaduto segretario dell'ordine degli psicologi e coordinatrice del progetto diritti dell'ordine stasera porto anche i saluti della nostra presidente laura parolin che per motivi istituzionali non può essere presente e ho il piacere di presentare delle relatrici di grande elevatura innanzitutto elisabetta camussi a cui a brevissimo passerò appunto la parola che docente di psicologia sociale all'università milano bicocca componente della task force colao è coordinatrice del nostro comitato pari opportunità abbiamo anche maria lisa d'amico costituzionalista e prolettrice con delega legalità trasparente pari opportunità dell'università degli studi di milano irene paccheris formatrice attivista per i diritti e per i diritti delle donne e poi modererà questo evento abbiamo il piacere di avere o re analiso giornalista di repubblica io vi auguro una buona visione dell'evento invito tutti i colleghi e tutte le colleghe che ci stanno seguendo al fatto che se avessero qualsiasi tipo di domanda la possono scrivere nella nostra chat e poi sarà nostra cura di portarla alle nostre relatrici grazie a tutti e do la parola a elisabetta camussi grazie gabriella e buonasera a tutte ea tutti i colleghi e le colleghe che sono qui presenti quelle le persone che sono collegate e anche i cittadini le cittadine che hanno deciso di passare questo fine pomeriggio ascoltando e dibattendo con noi di un tema assolutamente centrale non a caso come comitato pari opportunità abbiamo deciso di intitolare con una scelta abbastanza netta anche di posizionamento questo incontro la metà di niente che da un'indicazione precoce di incisiva di quale sia il posizionamento della del 51 per cento della popolazione cioè quello di genere femminile rispetto alla totalità dei luoghi decisionali sociali professionali e lavorativi ossia siamo al 51 per cento della popolazione ma non riusciamo ad essere il 50 per cento di nessuna delle situazioni attraverso le quali si fa la realtà fondamentalmente quella contemporanea in primis e sono quindi molto contenta di poter discutere di questo con delle persone che da punti di vista molto diversi lavorano e studiano e ricercano e promuovono su tematiche inerenti la parità di genere e mi piace anche ricordare che la progettazione di questo incontro oltre che nel lavoro condiviso con i gruppi di lavoro eh che afferiscono al alla struttura diciamo eh dei diritti di cui è responsabile Gabriella Scaduto abbiamo lavorato con le colleghe del Comitato Pari Opportunità che oltre a me e a Gabriella sono Barbara Bertani e Cristina Vacchini e in collaborazione con Anita Pirovana che all'interno del tema diritti è la referente del gruppo di lavoro sui diritti eh per le donne nomino tutto questo perché come sappiamo bene noi donne ma non solo noi donne eh quando eh le cose eh devono riuscire ad essere veramente interessanti ed incisive riescono ad essere tali solo e unicamente perché non sono il frutto di narcisismi individuali ma di eh progetti e dimensioni collaborative e cooperative così è stata cooperativa e collaborativa la progettazione e così sarà cooperativa e collaborativa la nostra co-conduzione e co-realizzazione di questo evento questa sera grazie molte e lascio la parola a Oriana Liso la nostra moderatrice nonché splendida giornalista di Repubblica che cura questa newsletter dal titolo scusi lei è già il titolo se non fosse troppo prima ancora per i conti dedicata al gender gap prima ancora che per i contenuti non fosse altro per il titolo io comincerei a leggerla istantaneamente grazie Oriana grazie grazie a tutti e buona serata buonasera a tutte e a tutti eh intanto vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano che eh dalla settimana scorsa stiamo lavorando e parlo ovviamente delle donne che sono collegate gratis perché le statistiche dicono che eh più o meno eh fine tra fine ottobre inizio novembre inizia quel momento dell'anno in cui la differenza salariale tra uomini e donne eh diventa talmente netta che è come se da quel momento in poi per 39 giorni le donne lavorassero gratis vorrei ricordarlo in partenza perché quando si parla di eh differenze di diseguaglianze bisogna anche andare molto al concreto il concreto è quello che guadagniamo con il lavoro che facciamo io vi ringrazio per questo eh invito soprattutto perché è un'occasione per confrontarsi con eh tre donne quattro donne che hanno sicuramente punti di vista differenti su questa eh questione eh più che punti di vista hanno davvero uno sguardo diverso ed è una cosa molto importante avere sempre sguardi diversi e quello che manca probabilmente in questo paese e in tanti altri paesi la differenza di sguardi ci aiuta a capire che ci sono problemi che vanno affrontati in maniera diversa io tornerei su Elisabetta subito perché eh in questi giorni eh stiamo ancora assistendo ad un dibattito su quelli che sono i fondi che questo paese avrà e potrà spendere per cercare di dare un futuro a questo paese e dopo quello che stiamo vivendo io ho conosciuto Elisabetta Camunsi proprio parlando di questo ormai eh cinque mesi fa forse parlavamo del piano Colau parlavamo di un progetto che poteva essere sicuramente perfettibile ma che aveva una base eh su cui lavorare per parlare di futuro eh nei vari paesi europei in cui si stanno studiando le misure per spendere questi soldi quelli del recovery fund eh la parola futuro è citata tantissime volte e c'è chi ha controllato nel nostro la parola futuro non c'è mai e futuro ricordiamolo che vale per le donne vale per i ragazzi e vale per chi domani dovrà occuparsi di chi invece in questo momento c'è già e poveri loro non so come faranno davvero che impegno avranno quindi Elisabetta Camus io questo vorrei capire con te eh cosa è stato il piano Colau che tipo di eh problemi è andato a toccare della differenza di genere che viviamo sotto tanti aspetti ma partiamo da quello eh economico e sociale che sono strettamente collegati e a che punto siamo adesso? Guarda eh Oriana ti ringrazio molto della domanda e peraltro mh quello che tengo a sottolineare è che io eh sono stata l'unica psicologa che è stata coinvolta nella task force economico sociale in realtà l'unica psicologa che è stata coinvolta nelle task force eh complessivamente eh attivate durante la pandemia eh presso la presidenza del consiglio o presso i singoli ministeri e questo visto che questa sera noi eh ci confrontiamo all'interno di un webinar che è di un ordine professionale mi sembra molto indicativo non tanto guardate in maniera lamentosa che è uno stile che non mi appartiene della posizione o della fatica di riconoscimento della psicologia della psicologia sociale di cui mi occupo all'interno del contesto sociale quanto di quanto sia difficile dare attenzione alle persone infatti se dovessi ragionare su quale è stato il mio contributo in termini appunto di psicologa sociale dentro una task force dagli equilibri di potere di potere diciamo quello vero cioè invisibile non assolutamente semplice il mio contributo è stato assolutamente dall'inizio e malmene incolse per tutto ciò quello di aver portato lo sguardo sulle persone ossia la mia interpretazione di quella che è l'utilità di una prospettiva di genere in tutti i luoghi di riflessione decisionali e di attuazione è l'importanza che lo sguardo di genere femminile ci sia in maniera bilanciata o presente allo sguardo di genere maschile perché portando lo sguardo di genere femminile che di solito non c'è nella quasi totalità dei luoghi nei quali invece si decide poi per tutti e per tutte è quello sguardo che è in grado di portare all'interno delle situazioni la complessità e la vita non certo perché le donne siano per alcune o per tutte caratteristiche migliori degli uomini geneticamente ma perché vengono da una storia millenaria nella quale la propria esperienza di relazione con la cura le ha rese gioco forza necessariamente molto consapevoli del fatto che ha bisogni differenti di persone differenti non si possono dare risposte standardizzate o meglio le puoi anche dare ma nella misura in cui le dai in quanto risposte standardizzate quello che ti succede è che non funzionano cioè quello che funziona con una persona non funziona con un'altra e beh certo che portare all'interno di una task force che aveva un compito così forte tengo a dire per riconoscenza e riconoscimento del lavoro condiviso insieme ai colleghi e le colleghe che anche noi eravamo in pandemia cioè noi lavoravamo giorno e notte alla realizzazione di un piano che si è poi concretizzato in una relazione e 120 schede di azione pronte da realizzare consegnate tra il 10 di aprile e il 15 di giugno ecco in questo lavoro grossissimo che abbiamo fatto come persone che erano dentro quella stessa pandemia e quindi come esseri umani condividevano quello stesso grado di incertezza e di imperscrutabilità rispetto a ciò che sarebbe poi accaduto la difficoltà del portare i bisogni come bisogni delle persone ed effetti delle ricadute delle scelte prese sugli individui è stata una difficoltà che esemplifico con una cosa che ho già ripetuto più volte a me non piace ripetermi ma credo che sia efficace nel rendere anche dal punto di vista simbolico che cosa è accaduto noi eravamo come cantieri di lavoro così ci chiamavamo cioè così era per c'era stato suggerito di chiamarci quello di cui mi occupavo io che ho coordinato il gruppo di lavoro individui famiglie e società era il gruppo di lavoro numero uno e nella presentazione finale sia del report sia nelle situazioni di presentazione pubbliche è diventato il gruppo numero 6 cioè quello che siamo riusciti a non nominare mai perché non volevamo nominare le donne no perché complessivamente non volevamo nominare la complessità ma volevamo in qualche modo immaginare che il mondo potesse funzionare secondo processi di tipo lineare nonostante la pandemia la post pandemia la seconda ondata e tutto ciò che ci circonda ce lo stesse dimostrando all'epoca ed oggi in maniera molto chiara sono però contenta del fatto che oltre ad aver messo numerose azioni proprio inerenti la parità di genere nel gruppo che ho coordinato nel quale ho lavorato molto bene con alcune persone molto meno bene con altre ma in particolare benissimo linda laura sabbadini ecco la cosa a cui ritengo molto è che anche lì con lacrime sangue perché questa è la definizione corretta la notte prima della chiusura del piano noi siamo riuscite a far in questo noi ci sono state tutte le figure di genere femminile e una parte inolitaria delle figure di genere maschile siamo riusciti a far mettere come terzo asse dell'intero piano pari di economia green e digitalizzazione la parità di genere detta peraltro proprio in termini di parità di genere perché tra le definizioni era l'unica perché passava ad esempio equità non passava passava parità ma questo voglio dire a me piace anche giuridicamente parità di genere va molto bene no quindi l'abbiamo l'abbiamo accettato come definizione siamo riusciti a farlo mettere come terzo asse il che a mio parere era nella complessità anche degli equilibri e del compito di quella task force una dimensione di riuscita assolutamente straordinaria perché i tre assi non erano in sequenza ma sullo stesso piano c'erano a proposito di futuro oriana la digitalizzazione l'economia green e la parità di genere ciò che è stato straordinario è che nel momento in cui noi abbiamo consegnato questo piano oltre ad essere per alcuni aspetti ma solo temporaneamente quasi sparito il piano nel suo complesso io ogni tanto penso che prima era estate adesso tra un po sarà natale e visto che il piano colao con le sue 120 schede sta sul sito pubblico ovviamente del governo italiano lo penso come le 120 schede messe a festone di natale che decorano il sito del governo perché apparentemente non era stato fatto molto uso più concreto ma quello che qui sto dicendo è che quello che è stato straordinario è che di quel terzo asse che era veramente qualcosa di eccezionale non nel mondo ma per l'italia essere riuscita a mettere come terzo asse e attenzione il terzo asse che ha lottato per non essere fagocitato dal concetto che a tutti piaceva perché tanto così lo buttiamo subito a latere e che era il concetto di inclusione noi abbiamo scritto che volevamo ci fosse la parità di genere e l'inclusione perché non essendo le donne un gruppo minoritario le donne non devono essere incluse l'inclusione sociale per sua definizione ha a che fare con gruppi a vario titolo minoritari all'interno del contesto sociale ottenuta quindi questo tenuto questo risultato che cosa è accaduto che il nostro risultato è sparito nel senso che sia dal punto di vista comunicativo non a caso no non eravamo di nuovo tutti pari rispetto ai contenuti di cui eravamo portatori e portatrici sia dal punto di vista più strettamente strategico nella definizione delle linee guida in particolare per il recovery fund che voglio dire è una questione veramente dirimente il futuro della nostra nazione la parità di genere è sparita ed è sparita nonostante anche questo lo trovo quasi straordinario nonostante il l'intero recovery fund che noi abbiamo attualmente scritto non è definito in maniera definitiva però scusate il gioco di parole però sicuramente molte indicazioni erano state date con chiarezza ad esempio già lo scorso settembre ecco nonostante nel recovery fund nelle linee guida del recovery fund per come sono state assunte dall'italia sia stato in realtà per un verso assunto una parte degli aspetti del piano colà ma molto in maniera molto più importante sia stato assunto tutto un concetto di sostenibilità no sostenibilità che richiama l'agenda di europa 2030 e quindi gli obiettivi del millennio nella quale però udite udite il quinto degli obiettivi è la parità di genere e però si assume l'agenda 2030 tutto ciò che non inerisce la parità di su questo abbiamo fatto dico abbiamo perché anche di nuovo qua non è un collettivo fatto da persone che si incontrano e dicono ei dai facciamolo ma con forze diverse voci diverse in questo anche grande merito a mio parere va a repubblica che ha svolto un lavoro assolutamente eccezionale nel mettere in luce come questa parità di genere stesse scomparendo quale neve al sole e che errore drammatico ci fosse in questo proprio perché la parità di genere non attiene i diritti delle donne attiene i diritti di tutti e di tutte ecco in questo lavoro preziosissimo è stato necessario come chiamare a raccolta le forze esistenti a vario titolo nel paese in termini di mobilitazione sociale in termini di impegno in termini di responsabilità anche in termini di posizionamenti politici e in questo devo riconoscere in questa fase del processo io certo al momento non mi accontento ma devo riconoscere che per me è stato un importante passaggio che è avvenuto proprio ieri il fatto che il segretario che siamo di nuovo al segretario che in questo caso è proprio il segretario di un partito il segretario del partito democratico zingaretti abbia presentato ieri in conferenza stampa il women new deal che è un documento preparato in riferimento appunto ad una richiesta di distribuzione di utilizzo del recovery fund rispetto alle problematiche che ne riscono la vita delle donne e attraverso la vita delle donne la vita di tutti e di tutti beh questo mi è sembrato un primo segnale importante che forse non si sia del tutto squagliato come neve al sole quello che è un asse strategico fondamentale non certo perché lo dico io ma perché l'europa per prima ce lo chiede considerando che come sapete bene perché avrete letto tutti diciamo il tempo stimato per il recupero del cosiddetto gender gap all'attuale situazione di progresso e cambiamento sociale di 257 anni quindi sicuramente qualcosa rispetto al quale il recovery fund non lascerà molto spazio Oriana uso gli ultimi due minuti che ho per concludere e dire che quindi che cosa è necessario fare a mio parere da questo momento in poi e questa serata secondo me è uno degli strumenti con cui possiamo fare qualcosa di molto importante beh è diciamo promuovere ciascuna a partire dalla propria dimensione dal proprio osservatorio dalla propria rete dai propri contatti promuovere questo esercizio di consapevolezza che possa rendere il più possibile in maniera anche intergenerazionale il posizionamento delle donne degli uomini anche di tutti quegli uomini che sono molto interessati a vivere in un paese normale a vivere in un paese nel quale si sta bene ecco possa aiutare a promuovere questa dimensione delle pari opportunità come una dimensione appunto in grado di restituire alla nostra nazione ciò di cui non siamo stati capaci fino a questo momento e sicuramente sempre meno capaci negli ultimi 30 anni per dare spazio appunto sia alle generazioni che sono già nella propria adultità sia alle generazioni future finisco dicendo che quando parliamo di parità di genere dopodiché appunto renderò disponibile forse l'ho già messo nei documenti che sono disponibili per chi segue il webinar il piano con la o nella sua interezza e la sezione che in particolare ho curato significa occuparsi contemporaneamente dell'educazione diciamo alla non stereotipia nella rappresentazione di sé dei bambini e le bambine a partire dalla primaria ma contemporaneamente occuparsi della violenza di genere e contemporaneamente fare in modo di poter supportare in questo la psicologia un ruolo importantissimo come nelle altre questioni che ho nominato di supportare la progettualità di bambini e bambine ragazzi e ragazzi adulti uomini e adulte donne rispetto ad una traiettoria di vita che possa essere pensata come buona e articolata e che permetta appunto un utilizzo delle migliori risorse ed espressione le migliori risorse di ciascuno di noi non vincolato da quello che è il genere di nascita in conclusione solo e poi davvero smetto che veniamo da una settimana peraltro chi abbia letto i quotidiani oggi ha visto che c'è un insieme di notizie che attengono in maniera diretta indiretta le questioni di genere spaventosa rispetto alla complessità degli scenari che ci offre però ritengo come psicologa sociale come comitato di pari opportunità di dover nominare a conclusione di questa settimana sia la elezione la nomina diciamo a vicepresidente degli stati uniti di kamala harris sia contemporaneamente la scomparsa di barbara gargano e dei suoi bambini alessandro e aurora che è scomparsa non giustificabile ma in nessun modo in nome della parola amore e che soprattutto da psicologi e psicologi ancora una volta ci dice dell'impossibilità che abbiamo avuto di essere sufficientemente prossimi perché la fragilità che in quest'uomo si andava chiaramente sviluppando potesse essere correttamente intercettata e supportata prima di un epilogo stragista come quello a cui abbiamo invece assistito grazie elisabetta hai toccato un tema molto importante che quello della violenza il 25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne e ci arriviamo appunto con una storia come questa che è esemplare sia per quello che è accaduto sia per come è stato trattato in questo io ci metto tantissimo anche il ruolo della stampa dei media nel raccontare che cosa sta succedendo maria risa d'amico io faccio una premessa alle cose che voglio chiederti perché appunto durante il lockdown io lo posso raccontare dal mio punto di vista che quello di una giornalista che si occupa di un sito di informazione durante il lockdown abbiamo avuto tanti casi di donne che hanno subito ancor più violenza o forse siamo riusciti a saperlo di più durante il lockdown perché case piccole convivenze forzate per tantissime ore frustrazioni generali non di un uomo o di una donna e ricordo ancora il caso di una di una donna che è stata uccisa dal suo ex compagno che lei stava ospitando in casa durante il lockdown perché lui non aveva più casa e si stavano lasciando lei l'ha ospitato e lui l'ha uccisa c'è la violenza che abbiamo visto in questi mesi scusate io vi leggo però anche un dato che riguarda il lavoro che io collego anche alla violenza perché l'indipendenza economica ricordiamolo che è sempre una possibile chiave per riuscire ad uscire da alcune situazioni non è l'unica tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo di quest'anno in italia si sono persi 470 mila posti di lavoro di donne uno dirà è un numero in questo numero ho letto ed è una cosa che mi ha colpito molto si chiama assosistema confindustria è l'associazione che riunisce le lavanderie industriali e loro stimano che in questi primi mesi dell'anno 5 mila donne che si occupano di lavanderie industriali che lavorano nelle lavanderie industriali hanno perso il posto quando si dice l'albergo chiude ma non non ci interessa il ristorante chiude non ci interessa le tovaglie gli asciugamani e le lenzuola di quell'albergo di quel ristorante qualcuno le lava e quel quel qualcuno che le lava si guadagna da vivere e probabilmente riesce anche a crearsi un minimo di dipendenza grazie a quel lavoro marilisa d'amico che è una costituzionalista ci può aiutare a capire a questo punto cos'è che si può fare in concreto cosa dovrebbe fare in concreto un governo che si occupa di questi temi il tema economico il tema delle violenze c'è una legge che la legge zanne che come sapete è in approvazione è stata approvata alla camera deve passare ancora al senato ed è forse un primo passo ma quando vedremo un'applicazione di questo genere di leggi e invece quando vedremo qualcosa che ci porterà come diceva elisabetta la parità la parità è una parola se poi non si applica nel concreto grazie io intanto ringrazio moltissimo l'ordine degli psicologi ed elisabetta camussi per questo invito e mi fa veramente piacere ritrovarmi anche con oriana liso con cui abbiamo insomma vissuto pagine molto belle anche della nostra milano dei diritti e rispetto a quelle pagine anche quel movimento di donne che ci fu all'inizio degli anni nel 2010 2011 tante cose sembrano diciamo essere state perse e sicuramente ci troviamo in un momento di grande sofferenza cioè io per parlare di parità io appena scritto un librettino in cui appunto mi è piaciuto molto il titolo di questa iniziativa la metà di niente il mio libro si intitola una parità ambigua costituzione e diritti delle donne perché alla fine appunto che poi alla fine la stessa cosa ma dove siamo e allora è però importante diciamo il lo spazio anche mentale e la lo scatto per concludere questo lavoro con lavoro di anni l'ho avuto proprio con il lockdown io con il lockdown come tutte noi siamo ci siamo trovate rinchiuse in casa anche ad assumerci tutta una serie di lavori domestici che personalmente erano anni che facevo veramente molto meno ma diciamo ed è insomma è comunque con un carico pesantissimo di tutti i tipi psicologico familiare così via e naturalmente i nostri compagni o marito o mariti giustificati più o meno ma insomma meno e soprattutto quello che a me è sembrato immediatamente incredibile è stato che rinchiusi in casa gli italiani le donne sono scomparse dalla scena pubblica già ce ne erano poche ma di colpo non c'erano più parlavano e parlano ancora oggi a livello politico a livello scientifico prevalentemente uomini cioè la voce delle donne era come scomparsa noi avevamo anche noi le segnalazioni perché lavoriamo tanto quella sulla violenza di genere anche con il tribunale di milano con il dottor arroia avevamo tanto segnalazioni appunto di associazioni che ci dicevano guardate che in questa prima fase ci sono meno chiamate ma le violenze stanno esplodendo era ovviamente chiarissimo il tema perché se tu rinchiudi nel luogo che è il luogo dove si eserciano le violenze che pensi la nostra diciamo ancora raffigurazione sbagliata di qualcuno che diciamo che passa per la strada purtroppo la violenza di genere è soprattutto violenza domestica la violenza fisica ma anche quella psicologica che altrettanto grave e quindi rispetto a tutto questo l'aspetto poi concertante è stato che in questo sconcertante è stato che in queste task force inizialmente praticamente non c'erano alcune senza uomini e per quanto riguarda il piano Colau c'è stato un movimento anche di opinione grazie anche a giornali come Repubblica come Il Corriere si è denunciata questa assenza di donne poi alla fine sono state integrate e quando io ho visto che non so se Elisabetta ci fosse fin dall'inizio ma sicuramente Linda Laura Sabadini è stata nominata successivamente io mi sono sentita felice perché ho detto finalmente delle donne che vanno al posto giusto nel momento giusto e che riusciranno a tradurre tutta una serie di istanze che non sono istanze femminili o qualche cosa che sono necessità di una società che deve essere modificata che non può far parte di metà della sua popolazione ignorarlo metterla in un angolo e quindi ero molto contenta quando poi ho analizzato il contenuto del piano Colau ancora di più perché è un piano bellissimo e il fatto che sia stato inserito non il termine pari opportunità che è ancora un termine che richiama costituzionalmente alle quote io ti chiedo di avere in qualche modo un'opportunità anch'io che deve essere pari no la parità di genere la parità nel nostro linguaggio giudico è un termine più duro significa rivendicazione di un diritto significa che siamo appunto il 50 per cento della popolazione e come tale dobbiamo essere anche in tutti i luoghi istituzionali di lavoro e di ecco quindi io anche a me è sembrato molto triste che in questo paese questo piano sia stato messo in un cassetto che oggi ancora sia in discussione se le linee del recovery fund non debbano contenere questa trasformazione e questa impostazione che è quella che avevate già esposto voi anche ben un sacco di mesi prima allora quando le costituenti hanno approvato la costituzione in particolare il principio di uguaglianza su cui si basano poi tutti gli altri principi costituzionali in tema di donne noi sappiamo che la costituzione si occupa appunto afferma la diciamo l'uguaglianza sia formale che sostanziale ma poi declina il principio di uguaglianza nella famiglia nel lavoro e negli impieghi pubblici e nelle cariche quindi in tutti gli ambiti è una costituzione molto coraggiosa se vogliamo che guarda al futuro e allora Teresa Mattei la più giovane costituente ci diceva nasce in questo momento una democrazia di donne e di uomini alla nostra non è una democrazia purtroppo è ancora un'incompiuta democrazia di donne e di uomini le donne ancora non ci sono e non hanno e la loro voce purtroppo non non si sente in quel modo che noi vorremmo sentire vi parlo semplicemente poi passo anche alla violenza perché è un tema importante vi faccio semplicemente un esempio io sto lavorando da anni con le magistrate ma voi sembra normale che ancora nel 2015 2016 a un convegno in cassazione mi si chiedeva e alla fine c'erano colleghi costituzionalisti uomini che mi guardavano male perché io affermavo che la necessità di riequilibrare i numeri sia a livello di cariche direttive o se direttive che a livello anche del consiglio superiore della magistratura fosse una necessità un obbligo costituzionale in cui l'articolo 3 della costituzione impone delle misure mi guardavano diciamo e le stesse magistrate in quel momento abbiamo incominciato a lavorare su norme antidiscriminatorie sul sistema elettorale che non sono ancora state introdotte se si fossero introdotte nel 2017 forse non avremmo avuto quel csm di adesso che purtroppo abbiamo avuto sotto gli occhi di tutti le magistrate sono oggi il 54 per cento della popolazione e sono magistrati cioè non sono donne magari appunto in cui quel gender gap avviene ai livelli anche di se pensiamo anche meno con meno anche capacità di difendere i propri diritti ma la stessa magistratura cioè lo stesso potere giudiziario ha questo problema enorme che non solo non è stato risolto ma che rischia di non essere risolto ancora per tanto tempo e su cui alla fine anche le stesse donne magistrato si stanno muovendo si stanno facendo molto ma con grandissima difficoltà adesso c'è l'ultimo scontro è sulla presidenza dell'associazione nazionale magistrati e c'è stata una sola presidente donna in più di cento anni di questa associazione quindi un problema di parità e di posizione diciamo di reale possibilità per tutte le donne a tutti i livelli di esserci di far sentire la propria voce e quindi di avere di dare luogo come diceva la professoressa camussi benissimo a una società equilibrata più ricca più forte è enorme allora quando giustamente oriana mi dice e ha colto perfettamente il segno e che l'hai detto anche però anche tu elisabetta benissimo prima perché poi ci si occupa dell'educazione dei bambini rispetto agli stereotipi e ci si occupa e nello stesso a scheda o comunque una scheda fine della violenza di genere cioè non si tratta di aspetti che poi hanno separati non dobbiamo cioè non possiamo interrogarci così increduli che ci siano così tanti femminicidi in questo periodo se non riflettiamo più a fondo che questi femminicidi questa violenza è ancora comunque l'espressione di una parità che non c'è e addirittura di una reazione fortissima contro anche delle richieste di autonomia da parte delle donne quindi la violenza di genere a mio avviso è un'altra faccia della discriminazione è un'altra faccia della mancata parità e se non si agisce su entrambi fronti quindi sia a livello culturale di insegnamento e anche a livello appunto sociale con 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 anche una presenza del terzo territorio appunto di psicologi sono fondamentali di prevenzione noi praticamente ci continueremo a stupirci ora anche qui io in questo librettino un po ripercorro un po la storia anche delle leggi rendiamoci conto che noi siamo un paese comunque che ha fatto votare le donne nel 1946 per la volta e che fino al per quanto riguarda la violenza fino al 1981 il femminicidio era punito praticamente era quasi giustificato che era il delitto per causa d'onore quello che era allora ed era una diciamo una norma attenuante dell'omicidio pazzesca del codice penale ancora in noi sappiamo che nel 1981 il legislatore abroga insieme appunto questo diritto per causa d'onore anche il cosiddetto matrimonio riparatore cioè la giustificazione attraverso il matrimonio di uno stupro allora è chiaro che dal 1981 oggi sono passati a quasi 40 anni non sono tantissimi non sono tantissimi perché purtroppo noi abbiamo comunque dei retaggi culturali di una visione patriarcale e molto anche in cui le donne ancora siamo siano immaginati come angelo del focolare nel loro luogo diciamo il ruolo materna una maternità c'è un bellissimo libro di carlo flaminio sto leggendo questo bellissimo voluminio sulla disputa delle donne in cui il certo punto si dice è il primo libro sulla violenza le molte facce della violenza c'è un capitolo su quello che mi definisce la violenza sociale due punti la condanna a essere madri cioè come la nostra società anche a diciamo in qualche modo riporta e giudica e si esprime su temi come l'aborto su cosa fatto sulla fecondazione medicalmente assistita qual era l'idea l'idea appunto che la donna non appartiene a sé e non ha la libertà fino in fondo di autodeterminarsi la donna in fondo appartiene alla natura non si può slegare da questo ruolo naturale allora cosa succede nella mente poi di psicologi ovviamente lo sa cosa succede però a livello secondo me in inconscio collettivo rispetto alla violenza io penso proprio che sia questo cioè il fatto che non che ci sia una ribellione che è individuale ma anche sociale alla possibilità che la donna autonomamente determini un ruolo che non è un ruolo legato alla natura un ruolo in cui se mai se si sceglie di avere un figlio lo si sceglie se si sceglie di continuare una relazione la si continua però anche qui poi la storia ci insegna tantissimo perché ci sono tutti i problemi pratici di cui noi ci occupiamo quotidianamente che hanno comunque del in cui fanno riflettere a far riflettere il pensiero di chi ha creato poi ha fatto nascere i primi anche il primo pensiero femminista allora io un altro diciamo un'altra riparzo a prendo quelle studentesse in questo periodo perché è nato questo corso quest'anno di delle donne nello stato costituzionale come cattedra jammone dove finalmente appunto si vincono anche su questi temi si vincono diciamo anche finanziamenti cattedre e ho delle studentesse degli studenti anche qualche uomo bravissimi e ne stiamo ragionando tanto appunto e torniamo sempre lì nel monopolio dell'uomo di anna kulishov cosa diceva anna kulishov per sottrarsi alla oppressione dell'uomo al fatto appunto di subire una un ruolo di un certo tipo cosa diceva l'unico modo per l'emancipazione è sia si avrà attraverso il lavoro e attraverso l'istruzione quindi è ovvio che per tornare e chiudere questa prima parte è ovvio che a livello poi pratico che cosa possiamo fare quello che stanno facendo però in piccolo bisognerebbe che fosse molto più in te diciamo che ci fossero molti più centri finanziati abbiamo dovuto combattere in lombardia per far finanziare i centri antiviolenza combattiamo quotidianamente con tutti questi aspetti per cui da una parte ci sono grandi proclami anche a livello nazionale di tutti i governi possibili e poi ci sono situazioni in cui di quel posizionale di rubinetti ai centri antiviolenza che cosa fanno i centri antiviolenza in tanti casi riescono a non solo ad ospitare madri e madri con figli ma anche a fare tramite per avere per diciamo per trovare lavoro allora da questo punto di vista cioè dal punto di vista della ricerca di lavoro e anche di una possibilità per donne in queste condizioni io penso che anche per esempio un comune come quello di milano dovrebbe porsi come obiettivo cose concrete cioè di se fosse il comune a fare un portale di questo tipo anziché diciamo e se ci fosse una anche da parte del comune una sorta di algoritmo parità per valutare non so le aziende piuttosto che le situazioni anche poi da finanziare piuttosto che da aiutare a livello ancora prima che il governo se ci fosse anche il comune di milano che in questo momento magari non lo sta facendo io non lo so però potrebbe partire da milano anche una grosso progetto elisabetta per riprendere gli aspetti del piano colao e far partire una forte richiesta che nel recovery fund ci sia una visione moderna innovativa e giusta perché appunto che che sia la visione in cui lo sguarciamo la parità di genere sia affermata a tutti i livelli quindi io credo che assolutamente questo è un momento giusto difficilissimo per tutti ma in cui dobbiamo reagire e insomma l'idea di incontrare di mettermi in relazione nuovamente con voi mi fa ovviamente molto felice e quindi anzi direi che forse credo di aver parlato di aver detto più o meno tutto quello che volevo dire se mi invitati sì no no riparlerai dopo perché speriamo di fare un secondo giro e se appunto ci sono anche domande so che elisabetta camussi le sta raccogliendo io volevo dire che sono a questo punto molto contenta che in questo in questo incontro ci sia anche i rene fakeris non soltanto perché è uno sguardo come dicevo prima uno sguardo diverso e penso che sia necessario avere sguardi diversi su questo tema non solo per una questione di età anche per quello che fa lo dicevamo prima irene è una formatrice ed è un attivista femminista ea me piace molto il fatto che una giovane donna se posso chiamarti così si autodefinisca questo si collega a quello di cui vorremmo parlare vorrei parlare con te perché parlavamo della violenza sulle donne parlavamo della violenza del genere e ci sono tante forme di violenza ci sono violenze fisiche e purtroppo ne abbiamo appunto vista una proprio in questi giorni drammatica e ci sono le violenze verbali che passano sempre passavano speriamo non passino per sempre in secondo piano irene fakeris ci può tra l'altro aprire un mondo che quello dei ragazzi ancora più giovani i ventenni i quindicenni che sono quelli su cui tutto quello che elisabetta camussi diceva prima stiamo scaricando per il futuro e a loro che lasciamo in eredità non solo questo periodo drammatico ma anche la mancanza di progettazione di programmazione di tutti questi decenni quindi volevo parlare con te per l'esperienza che ora ci racconterai che hai avuto che cosa vuol dire confrontarsi con la violenza verbale che di cui sei vittima e chi sono queste persone perché io poi ti vorrei anche chiedere se sono solo uomini se sono donne perché dobbiamo anche parlare di un dato di fatto ci sono tante donne che odiano le donne perché oggi facciamo i rimandi ai libri la metà di niente le donne che odiano le donne e vorrei capire se ci sono anche loro allora anzitutto grazie per l'invito e proprio per aggiungere uno sguardo diverso dirò buonasera a tutte a tutti e a tutte così usciamo anche dal binarismo di genere un saluto a tutte le persone non binarie che stanno guardando questa sera allora sì io sono tristemente un'esperta di di violenza online anche perché ormai sono dieci anni che bazzico internet facendo cose diverse io ho iniziato un percorso su internet nello specifico su youtube che era il 2010 io avevo cominciato da un paio d'anni l'università e inizialmente io non mi occupavo di questi temi anche perché non avevo ancora capito che mi avrebbero interessata così tanto semplicemente i tempi io facevo video comici su youtube quindi tutt'altro però era comunque qualcosa che già era fuori dallo stereotipo nel senso che youtube in italia già non andava ancora tantissimo stavano cominciando in quel periodo esserci i primi youtuber mentre invece in america erano già più avanti c'erano delle donne delle ragazze che facevano video su youtube e spessissimo erano video di outfit video di make up quindi mostravano come si erano vestiti oppure come si erano truccate che va benissimo se è quello che vuoi fare quello che ti appassiona io non lo facevo semplicemente perché come potete notare il nero il mio colore non mi azzardo a trovarne altri e idem con il trucco io volevo fare ridere volevo provare a portare della comicità e già questo faceva storcere il naso a qualcuno proprio perché non rientrava questo stereotipo mi sono accorta quasi subito di un doppio standard che in quell'istante io non sapevo chiamare doppio standard semplicemente vedevo qualcosa non andava ed era la differenza che vedevo nei commenti i commenti che arrivavano a me e i commenti che arrivavano i miei colleghi youtuber uomini erano molto molto diversi ovviamente commenti negativi possono arrivare a chiunque commenti maleducati possono arrivare a chiunque però i commenti dedicati ai ragazzi avevano come oggetto l'oggetto del video quindi c'era una valutazione dei loro comportamenti mettiamola così una valutazione della performance per cui se stavano giocando un videogioco e non erano particolarmente bravi secondo il commentatore il commento era fai schifo fare questa cosa detto in maniera più o meno volgare ma l'oggetto del commento era ciò che lo youtuber stava facendo i commenti che arrivavano a me non avevano nulla a che fare con l'oggetto del video i commenti che arrivavano a me non erano valutazioni di nulla erano giudizi sulla mia persona nello specifico se un commento doveva essere negativo era quasi sempre un insulto che aveva come sottofondo la mia situazione sessuale come spesso accade quando bisogna insultare una donna la si insulta cercando di farle capire che il fatto che lei faccia molto sesso secondo sempre l'utente significa che non abbia una morale e quindi tutti gli insulti sessisti possibili e immaginabili perciò io ho cominciato a chiedermi come mai come mai stessa accadendo una cosa del genere avevo il sentore che qualcosa non andasse ma non avevo capito cosa e non l'ho capito finché non sono approdata alla magistrale e ho cominciato a fare un corso che è il corso di psicologia delle differenze delle disuguaglianze che peraltro tiene la professoressa camussi ragione per cui per me questa sera anche un po una carrabbata riuscire qui lo dico sono particolarmente emozionata anche per questa ragione e lì io ho scoperto che effettivamente quella cosa aveva un nome era un doppio standard aveva a che fare con il sessismo aveva a che fare con una società patriarcale che ha insegnato a tutti noi alcuni comportamenti da tenere e lì ho capito che avrei voluto occuparmene questo ha significato prima aprire un'associazione no profit che si chiama bossi con la y e successivamente nel 2016 iniziare una rubrica su youtube che ha completamente cambiato la mia vita cioè parità in pillole l'ho proprio chiamata così avrei voluto parlare immediatamente di femminismo ma era consapevole del fatto che il femminismo si portasse dietro una nomea non proprio positiva comunque nella prima puntata io ho spiegato la differenza tra femminismo e maschilismo per non sbagliarci però l'ho chiamato parità in pillole proprio perché ero e rimango convinta che non fosse non sia una questione femminile ovviamente il femminile in questa società è percepito come inferiore e la maggior parte dei problemi poi gravano su noi donne ma non è solo una questione femminile una questione che riguarda tutte le persone per diverse ragioni questa rubrica io l'ho portata avanti per quattro anni finita nel 2019 e per quattro anni io ho dovuto convivere con i messaggi che che arrivavano arrivavano messaggi di ogni tipo e continuano ad arrivare devo dire non so perché io stia usando il passato perché è tristemente ancora una condizione presente nella maggior parte dei casi con toni diversi con parole diverse il messaggio era sempre lo stesso però cioè stai zitta come ti permetti di parlare come ti sei permessa di prendere uno spazio di farlo tuo di gestirlo secondo le tue regole e di sottolineare alcuni problemi che ci sono nella società che noi stavamo così tanto bene senza vedere sono successe anche delle cose positive mi sono arrivati un quantitativo impressionante di tesine di maturità sul femminismo e io in quei momenti avrei voluto essere delle commissioni perché mi immagino che qualcuno abbia detto ma cosa è successo quest'anno perché da nulla tutte queste ragazze dello specifico stanno parlando di femminismo nella tesina di maturità sono successe anche cose belle e poi magari parleremo della bellezza di essere giovani e parlare di questi temi ascoltare questi temi perché c'è tutto un lato molto positivo però sono stati quattro anni anche molto difficili per questa ragione perché era una donna giovane che stava parlando di cose scomode scomode da ascoltare soprattutto per un certo tipo di pubblico un pubblico maschile non solo ma per la maggior parte giusto per rispondere Oriana alla tua domanda se ci fossero anche delle donne eccetera devo dire un buon 99% sono commenti di uomini poi certo ci sono anche alcuni commenti di donne ma d'altra parte come dire hanno insegnato a tutti noi a essere maschilisti e maschiliste quindi non mi stupisce neanche più di tanto non penso che una donna solo perché donna nasca già sapendo alcune cose credo che il femminismo credo che femministi e femministe si diventi si continui a diventare è molto più difficile nascerci quindi se i commenti degli uomini mi fanno arrabbiare molto i commenti delle donne mi interessiscono perché vorrei cercare un modo invece per aiutarle in questo caso comunque ho deciso di chiudere la rubrica nel 2019 anche per questa ragione non solo erano 150 puntate erano successe tante cose avevo parlato di tanti temi e poi sono diventate un libro che ha lo stesso titolo quindi parità in pillole che è uscito a gennaio di quest'anno è stato bellissimo presentarlo a milano e poi basta perché siamo entrati in lockdown quindi come sempre per la legge di marfi però l'ho chiuso anche per questa ragione perché la mia la mia salute mentale era stata messa a dura prova perché comunque quattro anni di insulti costanti sono stati pesanti questo anno comunque non nessuno mi ha lasciata tranquilla perché mi sono spostata mi sono spostata dove si sono spostati giovani il mio obiettivo è quello di raccontare queste cose le persone più giovani perché se devo giocare i miei soldi su qualcuno li gioco sulle persone più giovani e quindi mi sono spostata su instagram e i problemi mi hanno seguita i commenti mi hanno seguita c'è un episodio abbastanza recente veramente sconvolgente per quanto mi riguarda tra i tantissimi commenti ricevuti e le volgarità ve le potete immaginare tanto più o meno sono sempre le stesse non hanno particolare fantasia devo dire quindi più o meno sono sempre quelli sono riusciti a scrivere ad andare sotto il profilo instagram di mio padre in questo caso come dire per bypassare completamente la figura un ritorno agli anni 50 parlano direttamente con il padre agio sono a questo punto sono completamente inutile nemmeno insultano più me quindi sono andati a insultare me ma sotto il profilo di mio padre e in quell'occasione io ho ho cercato un punto di contatto tra il mondo online che è il mondo dove dove lavoro soprattutto e la vita vera nel senso che sono andata in commissariato a fare denuncia contro ignoti perché ovviamente spessissimo utilizzano dei nick falsi dei nickname che non corrispondono nome e cognome e in commissariato mi è stato detto che non avrebbero fatto niente in sostanza perché ricercare quei nomi avrebbe portato via dispendio di tempo e soldi che nessuno avrebbe voluto spendere e che in sostanza io avrei dovuto farmi violentare davvero l'unica cosa che possiamo fare è se ti violentano se ti violentano davvero allora noi possiamo intervenire purtroppo finché non ti violenta noi non possiamo fare niente questo è quello che che succede nella vita online e questo è quello che succede quando provi non sempre voglio sperare però questo è quello che mi è successo quando ho provato a chiedere una mano a chiedere un aiuto perché non ci sto più a pensare che il problema sia io io ovviamente sono stata chiamata in mille modi nazi femminista fascista perché a un certo punto io ho semplicemente ho deciso di moderare i commenti di bloccare di eliminare i commenti scurridi e bloccare le persone che le avevano lasciati e queste persone urlando alla libertà di espressione e la libertà di opinione dicevano di non essere d'accordo e sentivano che la loro libertà è stata violata in qualche modo io non ci sto più e questo l'ho detto da moltissimo tempo c'è un'enorme differenza tra esprimere un'opinione e discriminare qualcuno e ormai lo dico sempre in tutte le salse perché come dire a me piace il rosso no a me piace di più il blu è uno scambio di opinioni io credo che le donne siano inferiori io credo che i neri siano meno intelligenti non è un'opinione noi non abbiamo il diritto in quanto esseri umani di fare stare male qualcuno non è un nostro diritto peggiorare la vita degli altri e questa è una battaglia che sto portando avanti moltissimo devo dire però che c'è tutto il lato positivo io in questo lockdown dopo l'ennesima shitstorm così viene definita cioè una campagna d'odio nei miei confronti portata avanti da soggetti vari in cui in sostanza per l'ennesima volta mi veniva detto taci ho deciso di aprire un progetto che è stato questo podcast che è palinsesto femminista perché per tornare a quello che diceva prima la professoressa camostino è vero che i progetti più virtuosi non sono quelli dove c'è al centro una persona e tutto il resto ruota attorno ma sono quei progetti dove le teste sono diverse dove si mettono assieme e il mio obiettivo è stato questo discutere una volta alla settimana con persone diverse che stavano su internet si occupavano di altro di femminismo e questa è una cosa che ha portato dall'inizio del lockdown 30.000 persone sul mio profilo ad avvicinarsi 30.000 persone che adesso parlano di femminismo 30.000 persone che condividono queste cose moltissime sono donne sono molto giovani la maggior parte non ha più di vent'anni io ne faccio 31 tra qualche giorno e molte di queste a loro volta hanno aperto dei canali dei profili instagram per parlare di questo questo mi mi fa molto felice perché so che dà molto fastidio ad alcuni uomini ho notato questa cosa online il tema il mondo delle influencer e il mondo delle attiviste insomma il mondo di personalità che online spiccano è un mondo prevalentemente femminile e ho notato che c'è questa rabbia e questo tentativo di delegittimare costantemente queste donne perché in sostanza sono arrivate per prime e hanno messo una bandierina in un posto che non era di nessuno e adesso è fatto soprattutto di donne e comincia ad essere un business e solitamente quando qualcosa comincia ad essere un business c'è un uomo che dice perché non lo sto facendo io da qui le varie polemiche per cui no mandiamo chiara ferragni a parlare di arte ma dall'alto di che cosa no non sto dicendo che chiara ferragni sia femminista però è sicuramente un un territorio che ormai è fatto soprattutto di donne e quindi quando vedo profili nuovi di ragazze che arrivano e si mettono a parlare di questi temi che magari stanno studiando in università o facendo corsi in inglese perché purtroppo sono ancora troppo pochi i corsi che in italia si occupano di questi temi io sono sempre molto speranzosa così come sono speranzosa quando vado nelle scuole alcuni temi non possono essere affrontati online lo si diceva offline prima su instagram su youtube si può fare divulgazione si possono creare dei contenuti è più difficile creare un dialogo anche perché ci si nasconde dietro i nick e quindi si può dire un più o meno qualsiasi cosa mentre invece se tu hai davanti una persona è più difficile che che dica le peggio cose e per questo per me è molto interessante andare nelle scuole io di solito ora ci vado online prima c'erano di persona però nelle scuole soprattutto nei nei licei come come età è quella è bellissimo fare tre ore di incontro e vedere i ragazzi e le ragazze che non toccano il cellulare che hanno moltissime domande da fare io vado nelle scuole parlo di femminismo e primi 15 minuti parlo solo di uomini perché mi diverte moltissimo vedere i ragazzi che si rendono conto di questo tema li riguarda e che non saranno tre ore contro di loro ma sono tre ore per loro e per tutti noi io vado avanti a fare queste cose nonostante ciò che accade nonostante i commenti e le notti insonni che mi faccio per questa ragione perché vedo la curiosità e la passione negli occhi dei dei ragazzi delle ragazze più giovani quindi al netto di tutto quanto credo che le cose possano migliorare e credo che non ci sia un'alternativa al fare entrare questi temi all'interno delle scuole perché a 15 anni cambiare idea il tuo lavoro e quello quello che devi fare è scardinare le tue credenze anche perché sono non sono moltissime e le hai da relativamente poco tempo è molto più difficile parlare con un uomo di 70 anni e raccontargli di mascolinità tossica perché poi si deve guardare allo specchio e si deve chiedere come ho vissuto fino ad adesso irene prima cominciamo ecco ti interrompo perché scusami io penso sia molto giusto che siano i ragazzi di 15 anni a a doverlo capire ne parlavamo prima appunto lo dicevamo offline riferendomi al fatto che tuo padre abbia ricevuto dei messaggi violenti e di odio che riguardano te e che insultano te e lo dico perché siamo nel posto giusto penso parlando di psicologi io penso che questo riguardi anche molto gli uomini e come gli uomini devono accettare che altri uomini parlino delle donne non delle loro donne delle donne quindi vuol dire anche mettere in discussione i modelli culturali ed educativi come dicevamo prima che gli uomini e le donne perché è vero che le donne sono altrettanto maschiliste in tanti casi stanno dando ai ragazzi più giovani penso che quello scambio di sia davvero il momento in cui nei passaggi di testimone peggiori che ci possano essere uno che ha un senso elisabetta allora prima vi chiedo scusa solo due comunicazioni di servizio marisa perdonami mi chiedono il titolo del libro di famigli il tuo l'ho già ripetuto se ho detto correttamente in chat è una parità ambigua cura a tuo nome invece quello di carlo flamini ti ricordi il titolo per cortesia se volete il mio una parità ambigua e questo qui ed è edito da cortina e quindi faccio grazie perché è quello di carlo flamini è appunto sono otto volumi non so se possono essere comprati separatamente ma chiederemo all'editore e me la dare che le ha regalati appunto perché erano destinati a me la la moglie e carlo flamini allora il primo è il diritto di pensare storia della disputa sulle donne l'editore è an anche che è una casa editrice che forse conoscete l'aspetto interessante che lui ha diciamo dovuto in qualche modo impegnarsi moltissimo per far pubblicare questo libro perché nessuno che la casa editrice voleva pubblicare otto libri ma quando mai quella invece sono libri veramente che si leggono un grandissimo interesse secondo me sono vendibili separatamente lo spero il primo sulle molte facce della violenza e secondo i rovi il secondo il ruolo di prestigio delle donne per la letteratura misogena sesso e prostituzione questione dell'alfabeto la capacità cognitive delle donne c'è fatto anche un ragionamento su questi temi ma da scienziato da medico io poi spero che appunto anche alcune studentesse insomma che abbiano voglia anche di farci del test di laurea su questo su questo su questi volumi grazie molte maritisa ripeto anche parità in pillole di rene faccheris invece palinsesto femminista è fruibile via web e aggiungo l'ultima nota di servizio poi oriana ti rispondo che ho detto una cosa scorretta io sono una sostenitrice dell'onestà intellettuale sempre comunque anche quando è scomoda io non sono stata l'unica psicologa a far parte del task force perché la collega daniela lucangeli psicologa dell'educazione e dello sviluppo ha fatto parte della task force dedicata alla scuola ci tenevo a ricordarlo diciamo che non perché il tema scuola non mi interessasse ma come dire in quello che ho riportato e in termini psicologici si capisce benissimo è il sentimento di solitudine che ho avvertito nel mio essere dentro quella fatica fa che chiaramente in modo molto diverso e adesso rispondo alla solita sollecitazione richiama per un età diversa e per un stile verso sicuramente quella di rene quella di marilisa quella di oriana e di tutte quelle che qui non stiamo nominando ma che è la fatica di quelle donne che per ragioni diverse di storia di formazione di professione di interesse anche magari di condizioni all'interno delle quali questo riescono a permetterselo stanno in una posizione un po militante un po pionieristica che può essere militante pionieristica non solo in senso assoluto anche in senso relativo rispetto ai contesti che praticano rispetto alle discipline di cui si occupano rispetto alle realtà nelle quali nelle quali si muovono e che è una posizione indubbiamente molto faticosa da reggere non si è super eroine per questo si è sicuramente pioniere però perché l'essere fuori posto è una cosa che non ti fa male individualmente ti fa male socialmente socialmente il tuo stare fuori posto non è normalmente così apprezzato il che ci fa anche capire perché sia così difficile per molte donne come sia irene sia marilisa ci ricordavano prima sia molto difficile contrastare la posizione di svantaggio nella quale sono perché la psicologia e la psicologia sociale da sempre ci insegnano che chi è in condizione di svantaggio deve poter intuire il cambiamento come è possibile altrimenti non farà che riprodurre le assimmetrie dentro le quali si trova svantaggiata perché comunque sono più umanamente protettive e difensive di quanto non sia esporsi individualmente l'abbiamo sentito nelle narrazioni di questa sera concludo dicendo e anche Oriana nella sua storia di giornalista potrebbe farne molte di queste narrazioni concludo dicendo che l'aspetto su cui ha riflettuto Irene dell'importanza dell'investire sulle generazioni per così dire in divenire a mio parere è molto interessante e lo vorrei però completare con un dato che mi interessa molto che viene dalle ricerche istat sulla stereotipia di genere pubblicate nell'ultimo report sulla violenza di cui ancora una volta dobbiamo essere gratte a linda laura sabadini peraltro per essere stata la prima che in italia ha chiesto con forza e ha realizzato altra pioniera a suo prezzo come dire a suo rischio e pericolo le statistiche di genere oltre che le statistiche diciamo relative alla violenza ecco nella parte che insieme abbiamo guardato sulla stereotipia di genere c'è questo aspetto molto interessante che adere intanto ad essere più stereotipici sono in generale gli uomini delle donne che sono tutte un pochino meno stereotipate pur essendo come dire cresciute dentro lo stesso sistema di socializzazione ma l'elemento a mio parere molto interessante e che il livello per così dire più impenetrabile di cambiamento della stereotipia di genere si correla delle variabili che per chi si occupa di psicologia sono molto interessanti che sono di questo tipo tendenzialmente in italia ad essere con gli stereotipi di genere più impossibili da scalfire sono uomini residenti nel meridione d'italia non vuol dire nativi vorrei ci fosse chiarezza su questo residenti nel meridione meridione d'italia con un'età dai 60 anni in su e con un livello di insoddisfazione rispetto alla propria storia professionale anche un basso titolo di studio mediamente molto alto cioè perso uomini di 60 anni molto insoddisfatti della loro vita perché privi di un lavoro oppure facenti un lavoro di scarsa qualità un lavoro scarsamente retribuito con un basso titolo di studio alla polarità opposta di questo stanno gli uomini e le donne che hanno tra i 25 e 30 anni un titolo di studio elevato lavorano e risiedono nel nord italia e spesso costituiscono coppie di tipo paritario perché tutto questo molto interessante perché ci dice una fotografia solo apparentemente statica la storia di un paese che nonostante tutto sta evolvendo il che per me non significa ma troppo lentamente ma sta evolvendo il che per me però non significa mai dimenticarsi comunque degli uomini e delle donne di tutte le età per le quali comunque noi siamo ancora nella possibilità di offrire un'esperienza di vita che sia appunto buona e che non sia invece limitante e penosa pur riconoscendo in tutto quello che dice Irene una versione esplicita per quanto protetta da uno schermo web di tutta quella che è una dinamica di violenza nei confronti delle delle donne che sembra invece non mutare assolutamente mai grazie pensavo alla questione del linguaggio che hai appena nominato perché il dizionario dei votori ogni ogni anno si rinnova nelle parole che entrano nel linguaggio comune purtroppo quest'anno ovviamente abbiamo lockdown droplet e cambiando anche delle definizioni mi aveva fatto aveva molto colpito che ve lo leggo la all'aggettivo sconveniente la nuova definizione è è sconveniente comportarsi così perché la definizione nel 2019 era è sconveniente che una ragazza si comporti così se siamo a è sconveniente che una ragazza si comporti così o ancora al la parola capriccioso il primo accostamento nel vocabolario era signorina capricciosa è molto difficile scardinare tutti questi stereotipi di cui stiamo parlando perché dobbiamo davvero andare alla radice del linguaggio e questo so che abbiamo ancora un po di tempo vi chiedo delle risposte in pochi minuti questo lo chiedo di nuovo a marilisa d'amico perché è importante anche questo il linguaggio irene ha salutato tutto cercando mettendo quell'asterisco immaginario che che ormai vediamo in realtà in tantissimi documenti però volevo chiedere quanto è importante partire da questo da un cambiamento del linguaggio di genere per arrivare poi anche a un cambiamento reale grazie intanto ringrazio moltissimo irene faccheris per la testimonianza che ci ha dato anche per quello che sta facendo perché veramente è accolto il punto cioè noi abbiamo dei pericoli in questo momento fortissimi dal mondo virtuale e l'unico modo per salvarci è quello di recuperare un rapporto vero con il mondo reale e poi naturalmente sta facendo l'esperienza che anch'io come professoressa sto facendo da quando insegno e cioè davvero quel che bello che è insegnare agli studenti ai ragazzi ancora di più se sono più piccoli perché è lì che puoi gettare dei semi e lì puoi proprio operare delle trasformazioni vere e allora effettivamente questo è il punto il linguaggio forma la realtà il linguaggio non è mai ma non è solo manifestazione del pensiero in una sfera di libertà dell'articolo 21 sembrerebbe scevro da qualsiasi limite come ancora addirittura miei colleghi interpretano noi oggi abbiamo un quadro costituzionale in cui abbiamo il diritto di manifestare liberamente il nostro pensiero ma il pensiero non può essere una lingua che offende che colpisce che discrimina che è violenta a livello verbale questo deve essere chiarissimo e quindi anche nel quadro costituzionale se vogliamo appunto chiarire mettere dei paletti l'articolo 2 che difende la dignità delle persone l'articolo 3 che difende l'uguaglianza e la non discriminazione sono principi supremi che stanno praticamente a creare un recinto del prende la manifestazione del pensiero che deve essere limitata all'interno svolgersi all'interno del rispetto di questi a di questi principi premi che fanno da recinto non è possibile dire che siccome io sono libero di manifestare il mio pensiero se io offendo denigro come sta succedendo a lei come è successo ma a questo punto questa è libertà e tra l'altro ci sono comunque delle norme anche penali per cui gravissimo il comportamento delle istituzioni a cui ci si dice la denuncia va fatta e ci sono appunto norme penali che tutelano anche a rispetto a queste manifestazioni del pensiero quanto poi ancora ci sia sensibilità ci stiamo arrivando anche dei giudici nel contannare e anche la difficoltà di portare avanti appunto giudizi di questo tipo è tutta un'altra cosa ma ci stiamo arrivando anche da questo punto di vista quindi bisogna proprio chiarire anche a livello sociale a livello di comunicazione che le manifestazioni di pensiero che il pensiero sessista che il pensiero discriminatorio appunto ci si sta poi arrivando anche connesso col disegno di legge zanna è qualche cosa che si svolge fuori dalla costituzione e come tale va sanzionato e volevo dire questo noi come io ho un'associazione che si chiama box diritti appunto in cui ho cercato di cerchiamo di promuovere con una mia amica che si occupa di comunicazione lo sviluppo dei diritti umani e da cinque anni questo è il quinto anno che abbiamo un progetto che si chiama box diritti mappa dell'intolleranza mappiamo con un software i tweet discriminatori che danno una fotografia della realtà appunto italiana allora la realtà italiana a livello di web è una realtà profondamente discriminatoria ma la voce più forte ci sono delle fluttuazioni varie in questi anni ma diciamo la voce più forte quindi tweet più forte sempre più diciamo più numerosi sono sempre quelli sessisti e quando si scatena l'odio online si scatena quando ci sono per esempio i fenomeni di violenza cioè la rete crea diciamo una moltiplica gli aspetti negativi all'interno di un episodio che è di per sé negativo che quindi invece di essere condannato viene praticamente nel mondo della rete esaltato allora dobbiamo stare molto attenti perché il linguaggio di per sé diciamo forma la realtà quindi se noi non modifichiamo e non ragioniamo sul linguaggio e abbiamo anche degli strumenti per anche da incontruttura dei cambiamenti poi vi racconterò una cosa ma proprio un minuto di una cosa che stiamo facendo in statale possiamo però il linguaggio modifica la realtà diciamo forma la realtà e attenzione ai pericoli del mondo virtuale oggi questi temi si stanno incominciando a studiare ad affrontare molto più nel mondo che da noi ma che ci siano gli algoritmi discriminatori che il mondo del web esalti fenomeni di violenza verbale perché appunto è ragione rene proprio ci si difende dietro lo schermo davanti non hai il coraggio magari di dire a mostrare la tua faccia ma dietro appunto sì è quello che lei ha raccontato esattamente il tema oggi di cui dobbiamo occuparci anche a livello sociale a livello appunto di istruzione con il comune di Milano posso dire sì prego sì sì certo certo Mariana prego dicevo un minuto perché così rispettiamo i tempi in università statale abbiamo fatto una delibera in cui proprio promuovere il linguaggio non discriminatorio e rispettoso della parità all'interno dell'ateneo e stiamo praticamente modificando a livello di linguaggio tutti i nostri atti amministrativi è una cosa che stiamo facendo e ha fatto anche il comune di Milano sono piccole cose concrete però potrebbero comunque incominciare anche a segnare un cammino di differenza scusate no non devi scusarti volevo riuscire a ridare la parola di Irene perché Marilisa parlavi del virtuale con Irene invece le vorrei chiedere nel reale vai nelle scuole vai virtualmente purtroppo adesso però parli con tanti ragazzi giovani lo dicevamo prima quanta voglia secondo te hanno avete di caricarsi quello che gli stiamo lasciando in termini di disparità di genere ma in termini di disparità in generale a questo punto ma la temperatura che sento io parlando con con le persone più giovani il mood è un po' alla Greta Thunberg per capirci così abbiamo subito un riferimento chiaro e cioè mi rendo conto dell'istante in cui le persone più giovani diventano consapevoli della situazione in cui le abbiamo lasciate in sostanza mi ci sto mettendo dentro anche io visto che sto sempre facendo meno parte della categoria giovani ma vedo vedo la consapevolezza nel fatto che o cominceranno loro a fare qualcosa o difficilmente le cose cambieranno vedo tanta voglia di prendere spazio che è qualcosa che ancora non viene lasciato alle persone più giovani ci raccontiamo la favola che non siano maturi a sufficienza che non gli interessi veramente e per questa ragione non proponiamo nemmeno loro alcuni temi ed è per questo che poi appena hanno la possibilità di parlarne in realtà hanno milioni di cose da dire perché non lasciamo mai loro lo spazio credo che in questo momento le persone più giovani stiano capendo che lo spazio non è qualcosa che devi chiedere qualcosa che ti ti spetta di diritto e quindi ti puoi prendere io ci ho messo tanto a capire questa cosa che non dovevo chiedere il permesso per parlare di alcuni temi non dovevo sperare di essere tollerata ma non interessa essere tollerata io ci sono mi dovrei rispettare fine e vedo questa cosa nei giovani sempre di più per cui come dire più diventano consapevoli del mondo che stiamo lasciando loro più si si rimboccano le maniche o almeno io la sto vedendo così poi chissà se la sto vedendo così perché voglio fortissimamente vederla così o perché ci sia un fondo di realtà ovviamente spero la seconda prima di ridarti la parola elisabetta volevo dire prendiamoci spazio nella mia newsletter ne parlo di oggi ho intervistato elise line una vicepresidente visto che abbiamo la nomina di kamala harris come vicepresidente e lei dice proprio questo è il nostro tempo è giovane a 35 anni per essere la vicepresidente di una regione e il nostro tempo prendiamoci quello spazio andiamocelo a prendere stiamo arrivando e se questa volta è una vice la prossima volta sarà una donna presidente che dovrà magari scegliere come suo uomo un vice ed è quello che ci lascia anche sperare dopo questa elezione e in america elisabetta te la chiusura allora intanto grazie moltissimo di questo tempo che abbiamo condiviso e che come sempre succede in queste situazioni molto generative potrebbe durare molto più a lunga o senza che ne percepissimo fatica come al solito dobbiamo trattenerci dal dire tutto quello che vogliamo dire per me è stato anche soggettivamente molto bello nel rincontrare marilisa con il quale c'è un percorso parallelo da tanti anni vedere finalmente vis-à-vis oriana con la quale c'è un rapporto telefonico e ritrovare irene faccheris che fu studentessa ma ben altro è diventata nel corso della sua esperienza di vita e nelle competenze che andata sviluppando che applica e che qui ha portato ecco vorrei chiudere su questi due elementi il primo è che vi chiedo scusa ovviamente tutte le volte che ho usato il cellulare durante questa cosa è stato per seguire la chat nella quale mi venivano mandate le domande e direi che l'elemento fortissimo che ci portiamo via visto che siamo partite da un'idea di rete e di condivisione di cooperazione è che le persone che ci hanno seguito chiedono fortemente da parte nostra una segnalazione di raccolta di elementi titoli a me viene da dire anche contenuti web podcast indicazioni newsletter di oriana liso e tutto ciò che ci sembri non academicamente in maniera esaustiva utile ma tutto ciò che ci sembri utile per aprire completare perfezionare una riflessione su queste tematiche da parte di chi ci ha ascoltato infine come coordinatrice di un comitato pari opportunità che di un ordine come quello degli psicologi per me delle psicologhe della lombardia con ordine peraltro non molto numeroso come iscritti e discritte trovo che ciò che mi è piaciuto tantissimo di questa sera che erano uno degli intenti e l'apertura interdisciplinare degli sguardi e la possibilità proprio a partire da questi dico costruzione anche rispetto al fatto che alle psicologhe agli psicologi spetta nei vari contesti il compito di aiutare a dare senso alla vita delle persone e credo che questo significhi sia una formazione approfondita e specialistica per chi fa questo lavoro nei diversi contesti sia un ulteriore possibilità di incidenza che non è solo sulle persone giovani ma sulle persone tutte nell'aiutare proprio a trovare un senso migliore e diverso rispetto alla propria esperienza di vita sia essa individuale o collettiva per questo ringrazio ancora tutte e tutti purtroppo ai metati miei 52 anni continua a rimanere binaria nel linguaggio non nella visione della realtà ci mancherebbe però nel linguaggio continuo a rimanere binaria questo tengo moltissimo non alla rigidità dell'essere binaria ma al far passare almeno il binarismo nel linguaggio che non vuol dire l'eliminazione del non binarismo ma spesso siamo ancora a quel tipo di difficoltà e ringrazio davvero appunto a tutte noi e tutti tutte le persone che ci hanno seguito per la partecipazione e ci auguro oppure nella criticità di questo momento di passare comunque una buona serata e un arrivederci a tutte grazie 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 arrivederci grazie grazie